La menzogna può essere convincente, per fortuna la verità lo è ancora di più. Questa non è una commedia, è un dramma. È un dramma della nostra vita. Ma perché non ho mai parlato di loro? Sono stati coraggiosi, hanno cercato comunque di cambiare le cose. Beh, non pare che ci siano riusciti però. Hanno buttato via tutto per cosa poi? Sono morti e per cosa? Basta a dire che mi sono sognato tutto, ah? Lei è stata una presenza molto importante per noi. Ognuno combatte la solitudine come può. Resta così, non ti svegliare. Finché dormi sei il mio segreto. Da sveglio sarai vero. E di tutti. Ma chi parte sta interpretando? Non capisco. Ma che parte sta interpretando? Io? Io interpreto solo me stessa. E cosa c'è di più naturale di una reale finzione? Finzione. Finzione. Ma che finzione? Realtà.